Musica Che cosa vuoi Emma non ti capisco? Puoi ripetere piano, scandendo le parole per favore? Oh dai mamma voglio andare alla sagra, dai per piacere la sagra, la sagra Oh mamma voglio andare alla sagra, la sagra, quell'autunnale Calmati Emma, calmati ok? Allora, io e Anna dovrebbero andarci Cioè mamma cosa fate? Ah Emma, arrivi proprio al momento giusto Non è che hai voglia di andare con Emma alla sagra? No grazie, devo fare tanti compiti E volevo ancora chiamare con Pia e Dave Eh sì, volevo leggere ancora qualcosa, insomma devo andare, ciao Oh no no no, non ci vado di nuovo, sono già andata con Julian Quando è caduto dalla rosa panoramica No no no, un'altra volta non ci voglio andare No no no, con i bambini più piccoli, no Dai mamma possiamo andarci, dai per favore Dai, la sagra, la sagra, la sagra, la sagra Oh sì, ok, se proprio deve essere L'ho fatto andare insomma anche gli altri due Quindi non posso impedirlo a lei E vai! Ho convinto la mamma, ho convinto la mamma Bene Emma, ok, non c'è così tanta gente, meno male Cosa vuoi fare per primo? Potremmo andare insomma su questo carattolo qui, la giostra per bambini Oppure comprare qualcosa qui Quelli per quelli là del breakdance No, sei un pochino più piccola Troppo piccola, troppo piccola Quelli là, no no no, non ti faccio salire Mamma non possiamo andare qui su questa giostra Dai dai, sulla giostra Previ pagare? Sì, sì, la mamma paga Che come dovremmo fare altrimenti? Emma, tieniti forte, eh? Ah, sì, che bello Spero che vada tanto, tanto veloce Attenta, pronta che parte, eh? Tutto bene Emma? Sì mamma, sì! Bene, bene Vedo che lei si sta divertendo Mamma dai, ancora un giro, ti prego Ok, allora senza di me A me giro un po' la testa Mi devo sfermare un attimo No, no, da sola no, da sola no Non facciamo qualcosa insieme Oh, senti che profumo Mmm, miele Ah, sì, deve essere qualcosa qui, di sicuro Avremo, vorremmo una porzione di questa, sì Mmm, che buono Queste frittelle sono buonissime Hai ragione, non le hai mai mangiate Mmm, sì, sono buonissime, mamma Mmm, non posso smettere di mangiarle Ah, piccolina, anche io le mangio sempre così volentieri Sono così buone Mmm, cosa ne dici? Potremmo fare un giro sulla ruota panoramica Ma no, Emma è ancora troppo piccola Mmm, no, 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 sulla ruota non voglio È troppo alta Mmm, poi No, 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 non voglio E poi sono Raffreddata Mmm, mmm Non lo so, mi sento strana Mi brucia la gola Mmm, non che c'era qualcosa Che ti dà fastidio in quella che mi hai mangiato No, 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 di sicuro non per le frittelle Sono così buone Mmm, ne mangio ancora un paio Ah, ah Però forse ne ho mangiate troppo poche No, Emma, meglio di no, meglio di no Magari hai qualche allergia No, 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 lasciamo stare meglio Ehi, dai, mamma, allora andiamo avanti Oh, guarda, Emma, là c'è Tony Ehi, Tony, avete per caso voglia di frittelle? Emma, penso sia allergica Quindi meglio, a me, se non le mangio Ah, da quando sei di nuovo qui a Bli Mobile City? Oh, ok Thanks, my dear No, sono solamente un paio di giorni qui Eh, te, salutami Martina Grazie per le frittelle Oh, mamma, mi fa male Oh, Emma Andiamo a casa, ok? Meglio, se succede qualcosa Allora andiamo in ospedale Non ti preoccupare Oh, no, in ospedale non voglio No, non c'è ancora qualche altra frittella a noi No, no, in ospedale non voglio No, non ti preoccupare No, non ti preoccupare No, non ti preoccupare